con un altro video sfogo niente che cosa devo dire più cioè io pensavo che si fermasse passato un mese e mezzo quando ho pubblicato shorts la video recensione di furiosa no continuo che gente arriva lì e mi scrive le caratteristiche cazzate no questa qua mi scrive sul fatto che io commentavo questa qui che si parlava e diceva che fa schifo furiosa e lì vabbè lasciamo per l'ignoranza mi arriva un altro che mi spara che ora vedrete sicuramente o quando parlo vedrete il suo commento idiota mi spara dei nomi io Kubrick io Fellini ma che cazzo stai dicendo ma perché di mettere i paragoni di registi di altri tempi con altre diciamo anche tematiche o quello che affrontavano cioè questo coglione cioè mi mette a dire che prende George Miller non è uno dei miei registi degli ultimi 50 anni cioè insieme ad altri non è che dico che George Miller è il migliore cioè ha creato un qualcosa che ha portato un'innovazione un qualcosa che ancora oggi tira il post-apocalittico lo stile del post-apocalittico non avremo tante cose oggi non avremmo avuto Kenny Guerriero non avremmo avuto la saga videoludica Fallout che poi arriva dalla serie tv non avremmo avuto anche no giochi post-apocalittici cioè questo non sa un cazzo e spara minchiate e dice fa schifo non l'hanno visto questi non sanno neanche cos'è che fa schifo veramente nella vita cioè va di moda perché ha fatto flop furiosa perché io mi ricordo Mad Max tutti quanti pazzi per Mad Max perché aveva incassato ragazzi basta ogni volta basarsi sul quanto ha guadagnato un film o meno e quindi allora diventa il miglior film del mondo allora Fast and Furious con tutto ciò mi piace a me Fast and Furious non mi dispiace allora io dico eh Fast and Furious è il miglior film della vita perché ha incassato uno sfracello al cinema e allora è il miglior film che cazzo state dicendo questa gente veramente non so che cosa abbiano in testa poi giudicano senza vedere niente non sanno neanche loro di che cosa parlano e quindi vanno a fare i figli scrivendo facendoci una figura di merda perché alla fine fa schifo il tuo pene cioè fa schifo il tuo pene o quella l'altra la sua vagina fa schifo ma che cazzo dicete un film incompreso e che continua ancora a essere massacrato da teste di cazzo come questi qua a massacrare un film che si meriterebbe tanto e invece ha meritato di finire nel dimenticatoio con gente che lo lo bistratta ha sbagliato George Miller ha sbagliato il pubblico per primo a non accoglierlo nel modo giusto io posso dire che sono andato ah dicevano eh ma tu e Salo che avete fatto però minchi eravamo lì e ce lo siamo visti abbiamo pagato il biglietto e l'abbiamo visto eravamo in otto in sala ma c'eravamo possiamo dire noi siamo andati a vedere Furioso al cinema non come altri che dovranno dire l'ho visto nel cellulare o l'ho visto piratato detto questo noi ci vediamo al prossimo video vi invito a iscrivervi sempre al canale stiamo arrivando ai 2000 iscritti ragazzi erano tanti speciali tante cose interessanti io vi invito a farlo a voi non costa un cazzo e aiutate tantissimo me e il canale ci vediamo al prossimo video ciao